Comincia ufficialmente il mese in cui ripartirà la Serie A. Il rush finale di eccezione vedrà il Lecce direttamente coinvolto nella lotta salvezza. Per i giallorossi la stagione si interrotta a marzo con il terz'ultimo posto in classifica, a pari punti col Genoa e con diversi avversari nel mirino. Un obiettivo, quello della permanenza in massima serie, ampiamente raggiungibile per il presidente Saverio Sticchi Damiani. Il patron Salentino ha espresso il suo ottimismo nell'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ho ritrovato una squadra con un piglio deciso, spiega, ma soprattutto ho notato un clima di grande ottimismo in vista della ripresa. L'ambiente è compatto e intenzionato a lottare per l'obiettivo stagionale. Avverto motivazioni importanti da parte di tutti. Il riferimento è sia allo staff tecnico, con la piena fiducia nei confronti di Mester Liverani, sia ai calciatori, tornati al lavoro in condizioni ottimali. Non avevo dubbi, sottolinea Sticchi Damiani. Parliamo di uomini e professionisti seri che rispettano prima di tutto loro stessi. Si sono allenati al meglio durante la quarantina e questo rende merito sia a loro sia allo staff che li ha seguiti passo dopo passo in queste settimane. Quasi 20 giorni d'attesa prima di ricominciare. Il Lecce tornerà in campo il 20 giugno per giocarsi le sue chance alvezza, ma dovrà immediatamente fronteggiare Milano e Juventus. Due impegni tutt'altro che semplici, ma che permetteranno ai giallorossi di calarsi immediatamente nel finale di campionato. Solitamente è il periodo in cui si comincia a parlare di calcio ad agosto, ma stavolta c'è in palio un altro agno di Serie A.